Comandante, il bilancio dell'operazione Mare Sicuro della scorsa estate è un bilancio positivo, lo diceva in conferenza stampa. Quasi 20.000 interventi, però meno soccorsi e meno reati. Sì, è proprio così. Effettivamente la nostra campagna di prevenzione, che curiamo in modo particolare, effettivamente ha funzionato. E il cittadino ha risposto, e questo è l'importante. Ai nostri solleciti, al fatto di stare attenti, di attenzionare l'ambiente, eccetera, e quant'altro, ha funzionato e il cittadino ha recepito. Tra i tanti interventi, uno in particolare in Molise, il primo agosto scorso a Campomarino, durante un grosso incendio, avete praticamente salvato 97 persone. Sì, è proprio così. Siamo stati coinvolti nel dispositivo, ovviamente, della protezione civile, però i nostri uomini hanno, con le motovedette e altri mezzi, diciamo, reperiti all'occorrenza, salvato queste persone che erano in difficoltà, scappavano verso il mare a seguito dell'incendio e il fumo. Tornando ai numeri della scorsa estate, lei diceva pochi minuti fa se ci sono stati numeri positivi, perché evidentemente si è lavorato molto sul tema della prevenzione. Sì, anche per esempio nel diporto, noi col bollino blu, che è una visita preventiva che facciamo alle imbarcazioni, mettiamo in guardia il diportista se nel caso mancasse qualcosa nelle sue dotazioni di sicurezza. Questa è campagna di prevenzione, il diportista si adegua e il tutto si svolge in maniera regolare.